Ciao a tutti, nuovo episodio di Victoria 3 con il Papa States. Ripartiamo dal dicembre del 1845 in una situazione decisamente più favorevole di quella in cui ci trovavamo poco tempo fa con un miglioramento di tantissime condizioni in generale che ci stanno dando una serie di risultati molto positivi. Stiamo forse finalmente riuscendo ad abbattere il grosso problema della burocrazia che veramente ci stava attanagliando. Forse finalmente riusciremo a riprodurre un gettito fiscale e a prendere le tasse finalmente sarebbe cosa buona e giusta mentre intanto ci sono dei turmoil in Podgorica nel Montenegro Montenegro che ha un'attitudine worry perché ha paura del nostro potremmo farlo Puppet il Montenegro o la Diplomatic Play potrebbe scalare in una guerra dovremmo cercare di capire cosa fare perché potremmo avere uno sbocco sul piccolo porto del Montenegro e comunque far vedere che ci siamo anche noi sarebbe una bella riprova a livello geopolitico comunque dire guardate effettivamente effettivamente noi ci siamo allora andiamo a parlare con gli ottomani che hanno un'attitudine eccezionale su tutto con noi ma con cui non possiamo formare un'alleanza perché c'è una meno 100% di base reluctance che nasce da cosa non lo sappiamo tanto abbiamo sbloccato general staff a livello tecnologico stiamo anche per sbloccare i mechanical tools importantissimi e a questo punto io direi di puntare sulla society perché avevamo una serie di possibili sblocchi tipo vabbè i farmaceutici ce li sblocchiamo da soli potremmo puntare su i postal savings che ci danno più 20 di maximum cash reserves o sui modern sewage altrimenti identification documents ma 14 anni addirittura per la ricerca mi sembra esagerato qui andiamo molto molto online nel tempo qui possiamo diciamo che le tecnologie militari per ora le stiamo lasciando completamente andare a loro stesse per ora tutto sommato la cosa funziona anche eccoli qua i mechanical tools adesso andiamo subito a vedere ma io direi che andiamo sulle railways senza se e senza ma prima sblocchiamo un sistema di comunicazione efficace ovviamente ci servirà ferro e acciaio che stiamo in fase di costruzione come siamo messi con il debito in questo momento siamo costretti a bloccare perché è un po' che non ci dedichiamo al market effettivamente stavo lasciando correre senza colpo ferire qui abbiamo una serie di altre route che sarebbe meglio cancellare per ora il debito non sale e non scende quindi va bene così questa testa delle tools meno 7.2 era pessima vorrei capire un secondo come siamo messi col budget se dobbiamo effettivamente intervenire 7.69 diciamo che altri 69k li possiamo permettere poi diventerebbe difficile gestire probabilmente gli interessi cerchiamo di tenere sotto controllo questa situazione più che altro e andiamo sul market per vedere se c'è qualcosa su cui possiamo operare e la free trade devo dire che non sta c'è dibattito c'è dibattito in questa situazione questa legge in questo momento è supportata solo dagli industrialisti che sono a governo invece è poco aizza da parte dei rural folk e dei trade unions quindi non sarà propriamente semplice riuscire a mandarla in porto ci proviamo intanto le spese sono salite tantissimo mentre noi siamo in una situazione in cui buildings stiamo al government administration nella Romagna e in questo momento col government administration completato probabilmente potremmo quasi pensare di arrivare quasi a pari con la burocrasi sarebbe un miracolo veramente credo che dobbiamo un attimino lavorare adesso sul market perché stiamo perdendo tantissimo e abbiamo un cospicuo numero di convogli che ci richiede l'attenzione andiamo ai dettagli andiamo al market price e vediamo che i tools li stiamo pagando troppo stiamo pagando troppo anche la paper e ovviamente il wood che sono le tre risorse più consumate quindi andiamo subito a intervenire con le nuove route abbiamo subito il wood e abbiamo una route molto interessante forse ne troviamo un'altra col monte negro sì andiamo sui tools stesso discorso però siamo cominciamo ad essere un po' a corto di convogli e sulla paper dobbiamo per forza fare così per forza gli interessi sono meno 4,81 dobbiamo penso fermarci a breve perché altrimenti non li leggiamo più budget in questo momento siamo a 156 k 160 k io direi che abbiamo questo investment pool in realtà finite quelle in teoria se leggiamo un altro pochetto se leggiamo le 14 settimane del government administration dovremmo riuscire a ritornare dentro grazie all'investment pool quindi io a questo punto tenterei di resistere perché veramente questa mossa ci potrebbe fare ci potrebbe cambiare un pochino le sorti della della vicenda e comincerei anche a vedere che altro possiamo costruire per migliorare le nostre strutture necessariamente anche con lo zolfo dobbiamo andare la piccola borghesia adesso è influente ci può fare anche piacere questa cosa probabilmente noi dobbiamo assolutamente scavallare queste terribili 14 settimane gli interessi sono a meno 566 potremmo potremmo fare potremmo fare una manovra per non fermarci effettivamente in teoria se io porto le anonmains avanti dovremmo riuscire a riavere quei soldi indietro forse dovrei portare i logging camps avanti e infatti assolutamente sì perché in questo momento possiamo 15 settimane fare un altro pochino di logging camps quindi abbassare quindi abbassare di nuovo il costo e stiamo utilizzando il temporar national revenue che ci permette di guadagnare un pochino e di riabbassare quindi quegli interessi è poca roba in questo momento dobbiamo forse massimizzare noi le entrate non abbiamo molto da poter fare vediamo se possiamo lavorare sui bottoni di import export qualcosina possiamo fare forse forse anche no in questo fraccente qualcosina ce la facciamo ce la facciamo a giocarcela però si tratta di guadagni miseri però noi qui ci prendiamo tutto ok no credo a grain of power the core love blues our taxes on grain imports pausiamo ragazzi che cosa è successo quindi come al solito i landowners in classes ci dice che secondo loro ok possiamo scegliere sostanzialmente se dare più forza all'aristocrazia o se sempre limitare la stessa cosa che era successo poco tempo fa proviamo a dare più spazio a questa aristocrazia sperando che magari lavoriamo un pochino di più sulla free trade riattiviamo la nostra a grain of power altra volta abbiamo già detto high of the needle la Roma Ancuria non è contenta dell'inclusione degli industrialisti nel governo papale direi che perdiamo un pochino di autorità ma guadagniamo in altro a questo punto dobbiamo per forza cancellare qualcosa per riguadagnare autorità mentre qui siamo a 4,94 che insomma io vorrei dire che è un risultato abbastanza clamoroso allora non abbiamo i convogli 214 non capisco perché non mi dice che non ne abbiamo ne abbiamo ne abbiamo stiamo ribattendo un pochino gli interessi questa cosa va bene ovviamente intanto stiamo costruendo e questa è la cosa importante siamo pochissimo da logging camps poi mandiamo le iron mines e poi dopo alla fine manderemo anche la government administration visto che tanto in questo momento siamo lontani dalle enacting free trade credo che dobbiamo dare più interesse agli industrialisti però perché altrimenti qua non riusciamo a a dare il giusto supporto a questo mercato liberale andiamo sui dettagli degli industrialisti industrialist giulio pallavicino non è qua volevo andare a vedere eccoli qua allora li possiamo fare bolster o sopprimerli se facciamo bolster paghiamo non abbiamo l'autorità per fare il bolster in questo momento non abbiamo credo altre situazioni da poter fare se non fare appunto questo bolster ma ci servono i punti i punti che ci dobbiamo andare a ricavare assolutissimamente per esempio da alcune iniziative perfetto adesso li abbiamo andiamo a fare questo boost che non ricordo se costa economicamente qualcosa lo vedremo a breve no perfetto non mi sembra che ci siano cambi a livello delle spese va benissimo così e vediamo se riusciamo a migliorare questo enactment success stiamo cercando di trasformare appunto questo stato a livello industrialista il gdp dovrebbe crescere però possiamo lavorare un po' sul market vediamo un attimo siamo produttori di nulla sostanzialmente vediamo se possiamo lavorare un altro pochino sul market abbiamo finito l'investment pool direi direi proprio di sì siamo corto di danari vediamo un attimo volevo vedere solo una cosa le spese di interessi sono altissime quanto manca le annualize 12 settimane dobbiamo pausare necessariamente per non compromettere troppo le nostre risorse economiche in questo frangente quindi andiamo sui buildings purtroppo devo dire purtroppo dobbiamo andare su pausarli vediamo un po' da budget dobbiamo andare sul mercato per andare a tamponare il minimo indispensabile non capisco perché ci richiede tutti questi convogli cioè dove sono finiti i convogli perché perdiamo ogni 196 ok perché probabilmente le trade root cambiano in base al tempo il loro vedete questo è tutto il mercato sostanzialmente qui balance che è schizzato di nuovo stiamo rifacendo un investment pool che possiamo tenere da parte che è molto importante in questo frangente ci permette di crescere con molta più velocità allora dobbiamo andare sicuramente sulla paper sicuramente sulle forniture e per ora non abbiamo problemi di legno oddio un pochino ce l'abbiamo allora new import dobbiamo andare abbiamo detto sulla paper paper che in questo momento comunque va ci va male cioè sicuramente stiamo andando ad impattare sul nostro mercato però ecco più 3,16 più 4,45 rifiadiamo poi abbiamo detto l'altra cosa su cui dobbiamo andare a lavorare è il i liquori secondo me forse qualcosa la troviamo magari anche a meno penso proprio di sì poi abbiamo i clothes questi poveracci non vanno vestiti non mi sembra che ci siano particolari cambi ok direi che questo l'abbiamo fatto andiamo sulla diplomacy allora improve relation con le union island stanno facendo improve relation tunisi sta facendo improve relation e noi stiamo attivamente improvando le nostre relazioni con le due sicilie che però di contro stanno cercando di danneggiare le relazioni perché palesemente vogliono entrarci dentro casa e noi questo non lo possiamo tollerare modena 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 in questo momento se rimane quello che abbiamo detto è amichevole nei nostri confronti ma noi abbiamo possibili diplomatic play mentre la toscana ce l'avevamo potevamo andare allo scontro il buonsenso mi dice di stare tranquilli noi siamo schiacciati tra due giganti e questo ovviamente ci crea non pochi problemi quanto possiamo muoverci per l'espansione territoriale molto poco credo molto molto poco ci comunicano di un target di pace tra la guerra tra Egitto e impero ottomano per ora noi non abbiamo i solfiti perché non li produciamo e questo ci creerebbe dei problemi però li abbiamo messi in costruzione appunto stessa cosa il coal non abbiamo carbone se andiamo sui textile abbiamo lo stesso discorso qui per ora non possiamo fare molto altro e quindi la situazione rimane sostanzialmente invariata gli urban center possiamo puntare mark square ma non abbiamo i glass quindi questo comunque non ci permette di fare troppi modifiche government administration attenzione questa è una notizia perché noi guadagniamo più 325 di burocrasi più 75% di però andiamo a perdere perché ci serve la carta ma a noi non ci interessa ragazzi noi la carta ce la prendiamo e come facciamo questo grow up di burocrasi e andiamo subito sul market e andiamo subito sulla carta paper paper government wages costano così come costano i government buildings e il costo viene da paper e clippers spendiamo troppo di paper e troppo di clippers forse non era ancora il momento di farlo quindi potremmo tornare indietro sulle filling cabinets per forza di cose quello secondo me è il momento in cui sappiamo che fare questa mossa ci fa passare sul text west quindi ricordiamoci che abbiamo questa possibilità come siamo messi con il budget dell'investment pool malissimo 7,67 cresce un pochino la percentuale per le natti in free trade ma io credo che noi ci dobbiamo fermare qui per questo episodio confermo quindi ci fermiamo nel 25 settembre 1847 con un'economia che si sta riprendendo stiamo finalmente cercando anche se non sembra ma gli risolveremo questi problemi di burocrazia e speriamo finalmente di poterci dedicare quanto prima a a ben altri lidi però per ora la gestione dello Stato sta funzionando un po' zoppicante ma funziona a presto